Caffè, anice, rum, cognac e una scorza di limone. E guai a toccare la ricetta o a sbagliare le dosi. Se c'è una cosa di cui i fanesi vanno particolarmente fieri, è senz'altro la moretta, bevanda nata per riscaldare e corroborare i pescatori alle prese con il freddo del mare d'inverno. Una specialità che nel tempo si è trasformata in un vero e proprio brand su cui investire per la promozione del territorio, tanto da indurre un'azienda locale a tramutare quella che era soltanto una deliziosa bevanda in un profumo, moretta profano parfum. Un profumo che evoca ricordi, un simbolo che tramanda sapori, una fragranza che racconta una storia. Gli ingredienti fondamentali ci sono tutti, il caffè, l'anice verde di Castignano, il cognac, il rum, aromatizzati con una scorza di limone e zucchero. Minuziosamente, diciamo, dosati per creare una fragranza avvolgente, aromatica e dolce. La paternità di questo progetto nasce dalla collaborazione tra tutto lo staff di Cosmesi Italia, Andrea Meloni, il nostro creativo, chiaramente profumeria Taussi, e dando vita a un brand completamente autotono della regione Marche e in particolare di Fano, della città di Fano, da cui ne deriva il nome stesso profano, con lo scopo di rivalutare il nostro territorio, ricco di idee, materie prime e di storia. La carta utilizzata per il nostro brand è una carta ecosostenibile, originaria delle Marche di Pioraco, provincia di Macerata, creata con ridotte emissioni di CO2, ecosostenibile e progettata con standard internazionali. Il tappo è una vera e propria opera d'arte, è il fiore all'occhiello del nostro progetto, è creato da mastri scalpellini di Isola del Piano, della pietra cesana di Isola del Piano. Dulcis in fundo non possiamo che parlare dei profumi, quindi del percorso olfattivo, che ci ha trasportato attraverso le meraviglie del nostro territorio. Le essenze finemente selezionate, miscelate e inflaconate nel nostro laboratorio qui di Fano, appunto, Cosmesi Italia, derivano la loro creazione e i loro nomi dall'antica civiltà picena e dalla moderna tradizione marchigiana. Noi della profumeria Taussi collaboriamo già con la Cosmesi Italia e quando abbiamo avuto la presentazione, quando ci hanno presentato questo profumo abbiamo subito sposato l'idea e siamo esclusivi rivenditori del profumo alla Moretta. È un orgoglio per noi e anche per la città di Fano, ma anche noi come profumeria Taussi. Non solo profumo però, perché grazie alla collaborazione tra la pasticceria Nolfi e il Caffè del Porto è nato anche un gustosissimo dolcetto a base di Moretta. Da 30 anni gestiamo questo locale, di cui abbiamo commercializzato questo prodotto fanese che si chiama Moretta, tanto richiesto e tanto venduto. Poi in collaborazione con pasticceri e profumerie è venuta fuori tutta questa gran bella idea che abbiamo sposato tutti insieme e ne siamo veramente tutti orgogliosi. Dopo diverse prove siamo riusciti a creare questo dolcetto, fatto in maniera semplicissima però nel stesso tempo complicata perché è una tartelletta ripiena con una crema di anice, rum e cognac, il tutto glassato col cioccolato. È nata l'idea insieme al Bar del Porto che ci avevano chiesto di creare un dolcetto e dopo varie prove siamo riusciti a farlo questo dolcetto. All'inizio non veniva, poi piano piano. Nuove delizie dunque per l'olfatto e per il palato, ma tutto questo fa bene anche al turismo e al territorio nel suo insieme. Dopo i grandi successi di Tineris abbiamo selezionato dei prodotti d'eccellenza, dei prodotti che veramente sono la fanesità e quello come la moretta e il profumo alla moretta. I morettini che sono dei biscotti eccezionali al cioccolato abbiamo portato l'idea, la genialezza dei fanesi in tutto il mondo. Tutte queste aziende che si mettono in campo ideando, creando e progettando per noi sono fondamentali. Sono aziende che con il loro lavoro portano economie reali e noi dobbiamo puntare proprio sulle economie reali, ma allo stesso tempo di identificazione della nostra regione. Quindi se è vero che si crea felicità costruendo, progettando e lavorando, allora è la strada che dobbiamo sicuramente perseguire e condividere. Tutti insieme, facendo veramente squadra, valorizzando tutti coloro che hanno queste idee innovative e che vogliono guardare oltre, essere lungimiranti e guardare veramente al futuro. Anche se purtroppo ancora siamo in un periodo storico difficilissimo, ma è proprio nelle difficoltà che si crea quel valore aggiunto che è fondamentale per la nostra regione. Grazie. Grazie. Grazie.